sta per iniziare il day 2a e abbiamo la 500esima giocatrice iscritta francesca allora aspettative aspettative innanzitutto già è stato un successo arrivare al day 2 perché insomma non essendo proprio una giocatrice di quelle un abitue diciamo è andata bene così ho giocato due mani che adesso avrò il piacere di raccontare no scherzo e adesso tra poco comincia questo dei due insomma la strizza sale la strizza sale e paura no dai paurissima qua sono tutti quanti molto tecnici ho paura di fare delle c'è più cato per ho paura della magra figura magra in senso figurato ovviamente se come la figura di qui sopra però insomma vabbè la fortuna del principiante insomma si spera dai facciamo un'invocazione alla fortuna del principiante so la fortuna pensaci te in bocca al lupo crepi